tanto le indicazioni di napolitano rientro nel jack mancava da quando mancava l'altro è stato davvero un granito rientro soprattutto la grande prestazione secondo me nel jack non ha mai fatto una prestazione del genere un gol e tante belle cose perché si sta allenando duramente seriamente svolta in realtà è il talento solito che mi ha contraddistinto per tempo sarà quindi il top player di questo real madrid dopo l'infortunio di bellini